Inserivano nelle dichiarazioni annuali crediti IVA totalmente inesistenti che poi utilizzavano per compensare le somme dovute all'erario. Tre imprenditori di Corato, a capo di due società ed un'impresa individuale insieme al loro commercialista, sono finiti al centro di un'indagine per evasione fiscale condotta dai finanzieri del gruppo di Barletta in forza la compagna di Trani. L'espediente truffaldino scoperto dalle fiamme gialle consentiva agli indagati di mettere da parte un considerevole falso credito da impiegare successivamente per compensare indebitamente l'imposta realmente realizzata dalle attività produttive. Le società coinvolte, operanti nel settore dei lavori di meccanica e commercio all'ingrosso di materiali edili, non erano collegate tra loro, ad accomunarle era solo lo stesso commercialista a cui toccava il compito di definire le strategie utili ad evadere le imposte. Si tratta dunque di tre distinte verifiche fiscali svolte dai finanzieri nel 2017, sfociate successivamente in un'unica operazione di polizia giudiziaria. I militari hanno eseguito nei confronti degli indagati un decreto di sequestro di beni per circa 1.200.000 euro, l'equivalente della cifra sottratta alle casse dell'erario grazie a dichiarazioni fiscali infedeli o fraudolente. I finanzieri si sono occupati di assicurare a vincolo cautelare beni immobili, veicoli e quote societarie, nonché diversi rapporti finanziari, nella disponibilità degli indagati. I riscontri, estesi anche ai profili social degli imprenditori coinvolti, hanno consentito di individuare ulteriori beni in capo ad uno dei soggetti che, al fine di evitare eventuali azioni esecutive, ne aveva simulato la cessione al proprio coniuge. Dei tre imprenditori indagati, soltanto uno aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione con l'erario, seppur parzialmente. Per gli altri due, invece, è scattata anche la denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.